Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Si avvicina alla Liguria una perturbazione che provocherà precipitazioni sul settore centrale, soprattutto Levante. Ritorno del bel tempo durante la mattinata di venerdì. Il dettaglio oggi, mercoledì 20 ottobre, nuvolosità diffusa con deboli precipitazioni sul centro Levante, variabilità ponente con schiarite anche ampie. Venti da sud ovest fino a moderati, locali raffiche 50-60 km orari sul centro Ponente. Mare mosso, localmente molto mosso a Ponente. Temperature massime in diminuzione lungo la costa intorno a 19-20 gradi nelle zone interne tra 16-20 gradi. Domani giovedì 21 ottobre il passaggio della perturbazione determina precipitazioni più insistenti sul Levante dove nel pomeriggio si attendono locali rovesci o temporali anche forti schiarite da Ponente in serata. Venti tra moderati e forti da sud ovest, ingresso settentrionale in serata. Mare molto mosso sul centro Levante, mosso a Ponente. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 15-19 gradi nelle zone interne tra 10-14 gradi. Massime quasi stazionari e lungo la costa intorno a 20-21 gradi nelle zone interne tra 18-20 gradi. Dopodomani, venerdì 22 ottobre, nelle prime ore della notte, possibili rovesci o temporali residui sul Levante mentre a Ponente il cielo sarà già sereno. Deciso miglioramento già nel corso della mattinata con ritorno del bel tempo su tutta la regione. Venti settentrionali deboli, locali rinforzi al più moderati. Mare mosso in calo da Ponente. Temperature minime in calo. Lungo la costa tra 14-16 gradi, nelle zone interne tra 8-13 gradi. Massime in rialzo lungo la costa tra 21-23 gradi, nelle zone interne tra 19-22 gradi. È tutto, seguiti i raggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'Agenzia. A risentirci!